Ciao a tutti ragazzi! Oggi siamo arrivati con un nuovo video, mi trovo qui con la mia nonna Siamo qui per fare una challenge, sfida, qualcosa... sì, va bene Ehm... li vuoi dire qualcosa? Noi ci troviamo qui al mare, ci troviamo molto bene Va bene, no, ragazzi, perché in effetti io mi trovo nel salone, che questo salone voi non l'avrete mai visto Perché sì, mi trovo al mare, ci troviamo al mare Ehm... in questi giorni infatti usciranno un sacco di video tema estate Anche con i miei parenti, con mia mamma, con mio papà, con mio nonno, vabbè Un sacco di altri video con altri parenti Ehm... dai vogliamo iniziare? Certo Ok, iniziamo con... Per spiegarvi che cos'è, cosa faremo oggi Allora... qua dentro Con questa cloche Che ragazzi è fatta con lo scolapasta È un fazzoletto sotto Il bagiglio di mio nonno, ok? Ehm... qui sotto ci sarà un cibo Prima di so... Vabbè, una pietà... Un cibo, una bevanda E quando noi lo solleveremo Adesso non c'è nulla sotto Prima che la solleviamo Dobbiamo... Ehm... Dobbiamo cercare di indovinare se è... Donna Ci sei? Sì, c'è Se è aspro, dolce, salato o amaro Ehm... Se... Ehm... Faremo a turni per cercare di nominare Se la persona indovina Allora il cibo se lo mangerà l'altra persona Perché? Ehm... perché non saranno cibi buoni Eccetto uno Che sarà buono Che se lo indovini Ehm... Te lo mangi tu E se non lo indovini Se lo mangio l'altro Ehm... Adesso, adesso Mettete in pausa il video E commentate sotto Scrivete se secondo voi Il cibo buono è Dolce, amaro Aspro o salato Ehm... Va bene Direi di non Perderà tutto il tempo Di iniziare con il video Ok ragazzi Adesso c'è un cibo Che noi non sappiamo Sotto alla cloche E dovremmo sollevarla Inizi tu dal Indovinare che cos'è Sì Ok allora Pensi che sia Astro, dolce, amaro o salato? Salato Salato? Va bene Ok Solleviamo insieme Tu la prendi da qua Certo 3, 2, 1 E del limone Non hai indovinato Devi mangiarlo Vai Brucino con la riva No 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 Eh, così si fa Le scommesse Vero Devi finirlo Eh Capra Ma non mangiatelo Capra Finissitelo Ha finito Non l'hai finito Ma no ma Me lo mangio io Ma stai fermo Ma lo mangio Vedi che fa finta di mangiare Bene Allora lo mangio io Capra 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 Di che hai fattato Vuoi Devi che sia pulita Ma fatti gli scherzi Dico Ma chi te lo fa fare Scusa Dico Lo sanno Mia nonna che fa le cose Appena detto Ma mica lo sanno Ma almeno un po' L'hai mangiato Sì Sì Ingoia No no La smetti di cantare No basta E dai Mi porto il pane Basta Basta Via via Che schifo Ma che cretino che sei Dove sta questo Mettiamo qua i residui Dove sta quel foglietto Che non serve più Dove sta Ma non ci sono tutti i matti Ah vabbè Ok Allora ragazzi Passiamo al prossimo ciclo Ok ragazzi Tocca a me scommettere E scommetto che sia Salato Sì sì Origano L'origano È amaro Mi devo mangiare l'origano Ragazzi Amaro Nonno Devi stare zitto Ragazzi allora Mangiamo questo origano Nonno Nonno Basta L'origano L'origano Mia nonna che passa i biscotti Vabbè L'origano ragazzi Mia nonna si sta mangiando un biscotto dopo l'esperienza del limone Certo I taralli Ok ragazzi Mangiamo questo origano Che schifo Che schifo Che schifo Non ho senso che c'è il tarallo Dici che non Mangio il tarallo Dopo L'esperienza dell'origano Mi disco la bocca Ok Vabbè Passiamo al prossimo cibo Ok Mia nonna sta ancora mangiando il tarallo Qua sotto ci sarà qualcosa Devi indovinare tu Secondo te è dolce salato amaro Dolce salato amaro Aspro O aspro Dolce salato amaro Aspro No Secondo te è dolce o salato Perché sono gli unici due che rimangono Salato amaro e aspro dolce No Ha già fatto uno scherzo Non Ha messo il bigliettino limone Perché Perché c'era un bigliettino per ogni cibo Ma vediamo che c'è No No Che c'è scritto E vabbè la stessa cosa Eh È la stessa cosa No non va bene Ah È una grande cosa Vabbè la stessa cosa però dai Ma non lo puoi mangiare Ma questo ora l'abbiamo già Adesso lo prende però da dove sta No ma il limone non si può mangiare Come no Ma no Si può mangiare il limone Ma non il bigliettino della carta con sopra il limone Faccio così Ma poi il limone l'abbiamo già spiegato Ma poi No infatti l'abbiamo già mangiato Ma tu devi Allora Ok ragazzi Dopo lo scherzo di mio nonno Qui c'è la cloche La cloche Con dentro qualcosa Ok Che gusto credi che sia Dolce o salato Nonno Salato 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 Brava Brava Oh Indominato Vabbè comunque Aspettate Aspettate vi faccio vedere Che davvero l'ho bevuta Guardate Guardate c'è dentro Nonno mio nonno che canta Che schifo Ci credo Ci credo Vabbè Allora Che fare ora E adesso Bisogno Nonno deve mettere Nonno deve mettere l'ultima cosa Nonno deve mettere l'ultima Ma ormai si sa quello che ci sta E si sa quello che ci sta E voi sapete anche che la cosa buona era il dolce Ma prima E ora tocca a me indovinare Quindi sicuramente io mangerò il dolce Eh dai Eh dai Eh è bello Dove il salato Dove il dolce Dai Ti lascio già aperta la cloche Secondo me c'è il dolce sotto Ehi biscotti Che sorpresa Ok ragazzi Direi che il vincitore della challenge sono io Perché mi sono capitati i biscotti Sei d'accordo? Eh certo Ok Allora Salutali Allora E così L'intervista è finita Ma non era un'intervista E che cos'è? Come posso dire? Era Un video La sfida Il video è finito Ci vediamo Il prossimo Al prossimo video Sì Allora Ah Vabbè Allora ragazzi Il video di oggi Finisce qui E noi ci vediamo Al prossimo video Non perdetevi il prossimo video Con mio nonno E ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti